Gekigame presenta Dopo averli giocati ho scoperto che erano stati creati dallo stesso team Insomma ancora prima di sapere chi fosse Kataoka Ha conquistato il mio interesse E mi ha dato la speranza di vedere altri suoi giochi altrettanto affascinanti Purtroppo però dopo Ranko non ha pubblicato altri giochi E sono quasi dieci anni che non si vede un progetto sviluppato da Crispis E a oggi non sappiamo se lavoreranno ancora su qualcos'altro Visto che l'ultima news del loro sito è del 2015 L'unica cosa che sappiamo è che almeno fino al 2022 Yohei Kataoka era ancora vivo Infatti a dicembre di quell'anno è stato ospite a un programma televisivo giapponese Che parla di videogiochi Ricordando lo sviluppo di Tokyo Jungle Ho provato a scrivergli una mail per chiedergli cosa ha fatto in questi ultimi anni E se vedremo mai un suo nuovo gioco Però non ha mai risposto Per fortuna in Giappone i suoi giochi sono abbastanza conosciuti E riviste o siti come Famitsu e 4Gamer lo hanno intervistato in diverse occasioni Insomma come al solito con molta pazienza, molto tempo e un po' di fortuna Ho raccolto tutto il possibile per scoprire insieme chi è Yohei Kataoka In questo episodio di Forerario Videoludico vediamo la sua biografia Come ha trovato il supporto di Sony Quali giochi ha pubblicato e quali invece non sono mai usciti Come sempre ci tengo a ricordare che posso lavorare a queste lunghe ricerche Su autori e videogiochi dimenticati Solamente grazie al supporto dei ragazzi e delle ragazze che mi aiutano con le loro donazioni Se anche tu hai voglia di aiutarmi puoi leggere come fare nella pagina di Gekigemu su Patreon In ogni caso, buona visione Iohei Kataoka E' nato in Giappone nella prefettura di Miyazaki nel 1985 Poco dopo però si trasferisce con la famiglia a Boston negli Stati Uniti Quando lo hanno mandato alla scuola materna americana non conosceva bene l'inglese E quindi per lui era difficile fare amicizia con gli altri bambini Le cose sono cambiate quando è stato invitato alla festa di compleanno di un suo compagno Dove ha visto per la prima volta un Nintendo 8-bit Era la fine degli anni 80 e il NES era già molto amato dalle famiglie americane Che lasciavano senza problemi i loro bambini davanti alla console come se fosse un normale giocattolo A quella festa finalmente Kataoka si è divertito giocando con gli altri bambini A cose come Duck Hunt e Super Mario Bros Il tutto anche se non parlavano la stessa lingua Per lui è stato un po' come se il linguaggio dei videogiochi Gli avesse permesso di comunicare con i suoi coetanei Sul livello più immediato e universale rispetto alla lingua parlata Dopo quell'esperienza ha chiesto ai suoi genitori di comprargli un NES Però loro gli hanno regalato un Game Boy con Tetris Per quanto sia uno dei puzzle game più amati di sempre Per un bambino di 4 anni che voleva solo giocare a Super Mario È stata una grande delusione Per fortuna poi Yohei è riuscito a farsi comprare Super Mario Land E si ricorda di come passasse interi pomeriggi a esplorare i livelli E trovare nuovi segreti A quanto pare Tetris invece ha finito per essere giocato solamente da sua nonna Qualche anno dopo la famiglia di Kataoka è tornata in Giappone E il suo amore per i videogiochi si è moltiplicato Ormai frequentava le scuole elementari giapponesi Ed era molto più facile fare amicizia con i suoi coetanei Che gli hanno fatto conoscere manga come Doraemon e i film di Kaiju Tanto che Yohei inizia a disegnare un suo fumetto Da quanto racconta questo suo manga piaceva molto ai compagni di classe E durante la pausa a scuola si raggruppavano tutti attorno al suo banco Per guardarlo disegnare i nuovi episodi A un certo punto inventa anche un gioco da tavolo Disegna una mappa in stile RPG su un quadernetto E dei personaggi con la barra degli HP Raccontando l'avventura da far giocare ai suoi amici Un'altra esperienza che ha influenzato il suo amore per i videogiochi È stato Earthbound nel 1994 Per la prima volta ha provato delle emozioni di quel tipo in un videogioco Grazie alla storia e ai personaggi di Shigesato Itoi Da quanto ricorda lo ha giocato un po' per caso Lui in realtà voleva comprare Dragon Quest Però i suoi genitori non volevano vedere delle armi nei videogiochi Anche se erano delle spade fantasy come in Dragon Quest Visto che voleva comunque giocare un RPG Ha convinto i suoi che in Earthbound non c'erano le armi E quindi poteva giocarlo senza problemi Alla fine è diventato uno dei suoi giochi preferiti di sempre Grazie alla sua creatività per tutte le scuole elementari Kataoka ha avuto molti amici Però arrivato alle scuole medie I manga e i videogiochi erano considerati un passatempo per otaku o per bambini I suoi compagni di classe non lo ammiravano più come una volta Però lui voleva ancora diventare un mangaka Dopo aver passato degli anni difficili si è iscritto al liceo di design Dove ha incontrato così tante persone con un grandissimo talento per il disegno Che ha perso fiducia nelle sue capacità Ormai pensava che non sarebbe mai diventato un vero mangaka Intanto nel 2002 in Giappone esce Steel Battalion sul primo Xbox Che è il simulatore di Mac che usa un controller enorme E lo giochi come se fossi davvero dentro a un robot Yohei da grande fan dei Mac lo vuole giocare assolutamente E quindi cerca di lavori part time per raccogliere un po' di soldi E appena ne ha raccolti abbastanza diventa uno dei pochi possessori giapponesi di un Xbox Credo che sia interessante scoprire i giochi di cui si è appassionato da giovane Proprio perché ci aiutano a intuire meglio i suoi gusti E quindi come e perché è finito a creare anche lui dei videogiochi originali Comunque un paio di anni dopo nel 2004 Kataoka si trasferisce a Tokyo per frequentare l'accademia d'arte Dopo la delusione con i manga Pensa di concentrarsi su grafica digitale e web design E mentre studia sviluppa alcuni siti web per guadagnare un po' di soldi Però con l'esperienza si rende conto che anche in questo campo c'erano delle persone molto più brave di lui E quindi cade di nuovo in quella sensazione di inadeguatezza e incertezza per il futuro Forse spinto dal ricordo di quando era il bambino più bravo a disegnare manga nella sua scuola Vuole trovare un lavoro dove sentirsi ancora ammirato allo stesso modo A quel punto guardandosi attorno nella sua stanza Pensa che forse il suo amore per i videogiochi poteva essere la risposta che stava cercando Immaginare di diventare un game designer Li faceva provare la stessa eccitazione di quando iniziava un nuovo gioco E anche se non era il migliore disegnatore, sviluppatore o musicista Poteva collaborare con tante persone diverse per creare insieme qualcosa all'altezza delle sue aspettative Un gioco originale per sorprendere e meravigliare altri appassionati come lui Forse in questo modo poteva ritrovare il rispetto e l'approvazione degli altri Nel 2005 Yohei Kataoka convince alcuni suoi compagni di scuola a lavorare insieme su un videogioco Il progetto si chiamava Meteor Praticamente un RPG dove un meteorite sta per cadere sul mondo E hai solo 10 giorni prima che tutto verrà distrutto Con questo disastro inevitabile, la storia e il gameplay seguivano gli ultimi giorni di vita dei protagonisti Provando a immaginare come si sarebbero comportati davanti alla fine della vita Purtroppo non sapevano come trovare soldi per lavorare full time sul loro progetto E da quello che racconta Kataoka, nella metà degli anni 2000 in Giappone Il mercato dei giochi indipendenti era limitato alle poche copie fisiche vendute alle fiere E non c'erano dei modi semplici come Steam o App Store per vendere un gioco in digitale in tutto il paese Continuano quindi a lavorare part time su Meteor fino al 2006 Quando leggono per caso l'annuncio di Sony che promuoveva il PlayStation Camp 2006 Una specie di concorso dove cercavano nuove idee per giochi originali Quelli più interessanti sarebbero stati poi sostenuti direttamente da Sony e pubblicati su PlayStation Forse ti ricordi che ti avevo già raccontato una cosa molto simile in un altro episodio di Fuorio Radio Videoludico Quando ti avevo parlato di Nintendo e del suo team Jack & Beans In entrambi i casi il timore delle due aziende era che senza delle nuove idee il mercato dei videogiochi rischiava di fallire Senza attirare nuovi giocatori o sorprendere i vecchi fan Per proporre i suoi giochi al PlayStation Camp Kataoka decide di abbandonare l'Accademia d'Arte E fondare un vero e proprio team di sviluppo con i suoi amici chiamandolo Crispies Affittano un piccolo appartamento come ufficio e preparano tre idee per Sony La prima era Rain, un progetto su PlayStation 2 dove usare il re della pioggia per riportare acqua nel mondo colpito dalla siccità Poi c'era una versione di Meteor per PSP seguendo lo stesso concept che avevano già immaginato un paio di anni prima E la terza idea era Project Meko Praticamente un gioco di esplorazione sociale pensato per la nuova PlayStation 3 Ambientato nello spazio dove potevi viaggiare tra diversi pianeti raccogliendo i messaggi inviati nell'universo dagli altri giocatori Più messaggi raccogli e più la tua astronave si evolve Riuscendo così a viaggiare verso pianeti sempre più lontani Quando hanno mandato le loro idee a Sony Insieme al documento hanno allegato anche una foto del team Crispies Imposa da supereroi sul tetto del loro palazzo Sembra che pochi altri team si fossero impegnati così tanto per il concorso della PlayStation Camp Ma quello che ha incuriosito di più il responsabile Sony è stata proprio la foto buffa di Yohei con i suoi amici Alla fine sono stati tra i pochi team scelti nel concorso Anche se nessuna delle loro tre idee è mai stata realizzata Infatti come vedremo tra poco Sony preferiva farli iniziare con qualcosa di meno impegnativo L'accordo viene firmato ufficialmente nel 2007 Quando Yohei Kataoka aveva 22 anni Arrivati a questo punto della storia sappiamo che Kataoka voleva creare giochi originali E anche l'obiettivo di PlayStation Camp era proprio quello di trovare delle nuove idee Purtroppo come sai bene se hai visto altri video del progetto Geekigemu Nella maggior parte dei casi i giochi troppo originali non vendono molto Perché sono lontani dal gusto del grande pubblico Per questo Yohei era un po' preoccupato Ha trovato una possibile soluzione leggendo per caso un'intervista al cantante Yosui Inoue Dove parlava del metodo che usa per scrivere i testi delle sue canzoni A quanto pare sono famose per essere molto originali Però sono anche molto facili da apprezzare Perché mette insieme solo delle parole comuni E dei modi di dire molto diffusi In questo modo vanno incontro al grande pubblico Pur rimanendo diverse dal solito Kataoka ha preso spunto da questo sistema Pensando di usare delle tematiche universali E ambientazioni già molto apprezzate dal pubblico Dove poi inserire le sue idee originali L'esempio che fa è quello di Tokyo Jungle Che unisce la simpatia o il fascino per gli animali Con le città vuote post-apocalittiche Che sono tanto care all'immaginario fantascientifico Tra poco vedremo se questa strategia ha poi funzionato davvero Visto che per Crispis era la prima volta che sviluppavano un videogioco Per collaborare con Sony hanno iniziato da un progetto semplice Chiamato My Stylist Uscito nel 2008 solo in Giappone su PSP Potresti non considerarlo neanche come un videogioco Visto che a tutti gli effetti funziona più come un'app di gestione, abbigliamento e stili Con la telecamera della PSP fai le foto ai tuoi vestiti Oppure a quelli che vedi nei negozi E questi vengono salvati nel programma Dove li puoi organizzare e provare degli abbinamenti prima di indossarli C'è anche un sistema che registra i colori, la tipologia, i materiali dei vestiti E poi ti propone in automatico delle nuove possibili combinazioni alla moda Oggi su smartphone ci sono delle app simili che fanno tutte queste cose e molte di più Però all'epoca era un'idea abbastanza originale Soprattutto su console Naturalmente Sony puntava a raggiungere un pubblico appassionato di moda E magari non direttamente dei giocatori Insomma era il periodo in cui si provava un po' di tutto per attrarre un nuovo pubblico casual Visto il successo di Nintendo DS e Wii La grafica di My Stylist è tutta in 2D Con personaggi stilizzati che indossano i vestiti e le foto che hai fatto Per lo più sono disegni dei menu e delle scritte E quindi Kataoka ha sfruttato ancora la sua esperienza di web design per organizzare l'applicazione Dopo My Stylist il team Crispis si divide e rimangono solamente in due componenti Non ho trovato i motivi di questo abbandono Però a quel punto Kataoka e il suo collega rimasto dovevano dimostrare a Sony di farcela da soli E quindi hanno proposto tre nuovi giochi da sviluppare su Playstation 3 Il primo era Planet and Baby Dove allevare un bambino gigante che appare sulla Terra nell'età preistorica Puoi dargli da mangiare i dinosauri, le montagne e qualsiasi altra cosa che trovi in giro Risolvendo nel frattempo i problemi del pianeta Ad esempio un'eruzione vulcanica o qualche inondazione Mi piace tantissimo questo concept È abbastanza pazzo e mi ricorda un po' un mix tra Doshin the Giant e Seaman La seconda proposta era High Speed Ikkyaku Praticamente un action game a scorrimento laterale Dove sei un messaggero nel periodo Edo E corri da una parte all'altra il Giappone per consegnare messaggi e pacchi Il tutto disegnato in stile Ukyo E L'ultimo gioco proposto era World of Colors Dove esplorare un open world sempre a scorrimento laterale Per svelare tutta la mappa Riuscendo a raggiungere ogni angolo Dalle grotte sotterranee alle isole volanti Questo era il concept preferito da Kataoka Però a Sony purtroppo non interessava nessuno dei tre giochi Per questo non sono mai stati sviluppati E Crispis dovette inventarsi qualcos'altro La nuova proposta di Crispis Che è stata poi accettata da Sony È stata quella per Tokyo Jungle Come detto Kataoka ha scelto due tematiche universali Su cui fondare il gioco Ovvero gli animali come protagonisti E la città post-apocalisse Dove gli uomini sono scomparsi misteriosamente Anche la scelta di un volpino di Pomerania Come protagonista principale E soprattutto in bella vista sulla cover del gioco Non è ovviamente casuale Questa è una razza di cane che sembra essere molto alla moda Ed è anche un animale che non ha l'istinto Per sopravvivere senza i suoi padroni Quindi per Yohei era molto interessante Immaginarlo in una situazione selvaggia L'idea per il gameplay è stata sempre Quella di un roguelike Dove sopravvivere il più possibile In un luogo in ospitale Pieno di pericoli e nemici Ci sono più di 50 animali giocabili Dai pulcini ai dinosauri Passando per gatti, lupi e gazzelle Girando per la città abbandonata Ogni animale deve cercare cibo Combattere contro i suoi predatori Catturare delle prede O trovare erba e frutta da mangiare I giorni, i mesi e gli anni passano velocemente Seguendo l'orologio interno E per continuare la propria specie È importante far accoppiare gli animali Per concepire dei cuccioli Che diventano poi i nuovi protagonisti giocabili Più forti e resistenti Dei loro genitori Trovi anche dei vestiti E degli accessori speciali Per gli animali Ad esempio dei cappelli Delle magliette o delle scarpe Che aumentano alcune delle abilità Come la velocità o la forza Forse l'esperienza con MyStylist Ha ispirato questa meccanica di abbigliamento Ma di sicuro è molto divertente Vedere gli animali che indossano i vestiti Immagina un velociraptor Con le calze, la felpa Oppure un pulcino con una tuta robotica In stile Terminator Per visualizzare meglio Quello che aveva in mente per Tokyo Jungle Kataoka prende ispirazione Dal libro fotografico Tokyo Nobody Di Masataka Nakano Che raccoglie le foto di angoli della città In rarissimi momenti In cui non passava nessuno Dandogli una certa atmosfera apocalittica Yohei ha poi disegnato degli animali Sulle foto di Nakano Creando proprio quello che aveva in mente Per Tokyo Jungle Allega poi le foto al documento Da proporre a Sony E realizza anche un video mockup Dove si vede nella pratica Come funziona il gameplay che aveva in mente E' affascinante come questo video sia così simile al gioco finale Anche se era solo una semplice animazione in 2D C'è tutta la tensione della caccia La curiosità dell'esplorazione E poi un arrivo dei dinosauri Talmente assurdo da diventare comico Credo che i dinosauri che saltano fuori all'improvviso Siano una delle cose che ha convinto Sony A supportare il gioco E hanno solo chiesto a Kataoka Di spiegare nel gioco Da dove arrivavano questi dinosauri E' per questo che è nata la modalità storia di Tokyo Jungle Dove scopre cosa è successo agli esseri umani Tra dimensioni parallele e viaggi nel tempo Grazie ai soldi di Sony Crispy si ha assunto dei nuovi sviluppatori E alla fine del progetto erano 26 le persone che ci hanno lavorato Tokyo Jungle è stato il loro primo gioco in 3D E il team si era ingrandito Anche se lavoravano ancora dal piccolo appartamento Dove avevano iniziato E quindi gli saltava spesso l'elettricità Mentre lavoravano Perché usavano troppi computer insieme Oppure accendevano l'aria condizionata Nella prima versione Il gameplay era solo a scorrimento laterale Però dopo aver mostrato un demo Al Tokyo Game Show del 2010 Il feedback è stato così positivo Che Sony gli ha dato altro tempo e soldi Per migliorare il gioco E renderlo più divertente da esplorare In tutte le direzioni Alla fine Tokyo Jungle è uscito nel 2012 Su PlayStation 3 E in Giappone è stato un piccolo successo Anche se in Europa e in America Non è stato accolto allo stesso modo Però con il passare degli anni è diventato un gioco cult Vendendo più di 200.000 copie Sicuramente è un'esperienza diversa dal solito Che non si prende troppo sul serio E te lo consiglio se ami il roguelike di sopravvivenza post-apocalittica Dove provare a uccidere degli orsi o dei dinosauri Usando solo una banda di gattini Una delle cose più interessanti poi Era la classifica con i punteggi mondiali A seconda di quanti anni sei riuscito a sopravvivere nel gioco Suddivisi poi per paese, per giorno, per animale In questo modo avevi una certa soddisfazione Nel posizionarti in almeno una di queste classifiche E confrontare il tuo punteggio con quello degli amici Purtroppo non so per quanto tempo rimarrà online questa classifica Però anche se la tolgono Rimane sempre la modalità storia che puoi finire Puoi giocarlo anche in cop locale con un amico E puoi battere i tuoi stessi punteggi nella modalità survival Visto il successo su PlayStation 3 Sony ha chiesto a Kataoka di creare una versione mobile Per Tokyo Jungle E venderla quindi su smartphone e PlayStation Vita Tokyo Jungle Mobile è quindi uscito a luglio del 2013 Con la grafica isometrica e i livelli divisi in griglia Come se fosse un classico dungeon crawler roguelike Il gameplay rimane lo stesso del gioco originale Però qui c'è solo la modalità survival Dove sopravvivere il più possibile e aumentare il tuo punteggio Tenendo conto del suo gameplay È perfetto da giocare su portatile nei ritagli di tempo Purtroppo mentre sto lavorando questo video Tokyo Jungle Mobile non è più disponibile nel negozio digitale di Sony Però immagino che qualcuno ne abbia salvata una copia pirata Che puoi scaricare almeno su PlayStation Vita facendo una modifica Negli stessi anni Crispis stava anche lavorando su un altro gioco mobile Questa volta per iPhone e Android E il titolo era Earth Excavator Ma purtroppo non ci sono molte informazioni Se non il titolo e un'immagine promozionale Che avevano pubblicato sul vecchio sito di Crispis Immagino che fosse una specie di Mr. Driller roguelike A scorrimento verticale Dove scavi il più possibile verso il centro della terra Però non sappiamo cosa sia successo a questo gioco Perché sembra che sia stato cancellato E a oggi non si trova più nessuna prova della sua esistenza Il prossimo gioco pubblicato da Crispis È stato Ranko Tsukigimes Longest Day Uscito su PlayStation 3 nel 2014 È il capitolo videoludico di Short Piece Un progetto multimediale che comprende 4 corti di animazione Diretti da autori come Katsuhiro Tomo e Hajime Kataoki E il gioco stesso è stata una collaborazione tra Yohei Kataoka Che ha diretto il gameplay E Goichi Suda che ha scritto la storia surreale Bandai Namco è stato il publisher del progetto E insieme agli anime hanno pensato che fosse interessante Aggiungere anche un videogioco Leggendo le interviste sembra proprio che il loro obiettivo Fosse quello di creare qualcosa di molto strano Lasciando piena libertà agli autori L'unico limite era il basso budget E il poco tempo per svilupparlo Visto che gli anime del progetto erano diretti da autori molto famosi E avrebbero avuto sicuramente successo al cinema e su DVD Per il gioco potevano anche sperimentare con qualcosa di diverso Senza preoccuparsi troppo delle vendite Il produttore Daisuke Uchiyama di Bandai Namco Ha subito proposto Goichi Suda come autore ideale per questa idea Tenendo conto dei suoi progetti come Killer7 o No Moriros E credo che Grasshopper in quel periodo fosse già impegnata a lavorare su Killer is Dead E quindi hanno chiesto aiuto a Crispis per sviluppare Ranko Sud e Kataoka avevano già collaborato poco tempo prima Per una promozione incrociata tra Tokyo Jungle e Lollipop Chainsaw E quando Uchiyama ha spiegato a Suda cosa voleva fare A lui è subito venuto in mente Kataoka per realizzare qualcosa di strano insieme Sembra che in quel periodo Yohei stava già lavorando su un altro gioco Però non so se intendesse Earth Excavator oppure qualche altro progetto cancellato Comunque vista la richiesta di creare qualcosa di strano in piena libertà Kataoka e Suda non si sono lasciati scappare l'occasione Hanno messo da parte quello che stavano facendo e si sono dedicati a Ranko A quanto pare il concept originale proposto da Suda era talmente intricato Che Kataoka non ha capito bene cosa volesse fare con la storia e le ambientazioni Quindi lo ha interpretato nella sua personale visione E nel gameplay è una specie di Sonic o di Strider in versione psichedelica Corri e salti per i livelli uccidendo al volo i nemici E scappando da alcuni demoni che arrivano dal lato opposto dello schermo Non credo sia un caso che il demone principale sia proprio un volpino di Pomerania Eliminando i nemici al tempo giusto questi esplodono e creano delle combo Che uccidono anche i nemici che sono vicini E lo schermo si riempie di colori e di luci I livelli sono velocissimi e durano solo qualche minuto E ogni tanto devi anche uccidere qualche boss bizzarro La protagonista è una studentessa giapponese che vive in un parcheggio multipiano E di notte va in giro a sparare alla gente con un fucile da cecchino Che si usa come se fosse un violino Naturalmente non ti faccio spoiler perché questo è solo l'inizio di una storia metafisica a sfondo familiare Che starebbe bene anche nella saga onirica di Kill the Past Comunque credo che sia una delle mie storie preferite scritte da Suda Non ho trovato dati di vendita del gioco Però gli anime del progetto Short Piece hanno vinto diversi premi della critica in Giappone E hanno raccolto più di 600 mila dollari al cinema In occidente pochi hanno considerato Ranko Tsukigime's Longest Day su PlayStation 3 Però credo che sia uno di quei casi in cui verrà riscoperto dagli appassionati solamente tra qualche anno Mentre sto lavorando questo documentario Ranko è stato l'ultimo gioco conosciuto su cui hanno lavorato Crispis e Yohei Kataoka Nella descrizione pubblicata a fine 2022 dal programma tv dove ha partecipato Kataoka C'era scritto che stava lavorando su altri giochi Però non sappiamo cosa siano o se verranno mai pubblicati Ormai sono passati quasi dieci anni dall'uscita di Ranko E non sono sicuro che il team esista ancora Tenendo conto che non ci sono più stati aggiornamenti sul loro sito ufficiale E neanche nei loro profili social Kataoka ha sempre lavorato anche sulla grafica Delle cover dei giochi Dei poster E del materiale pubblicitario Quindi forse offre questi servizi di grafica Anche da altre aziende Purtroppo senza una risposta direttamente da lui Non ti so dire come abbia fatto a sopravvivere fino ad oggi Da quello che racconta nelle sue interviste Per lui creare giochi originali è una missione E non vuole accettare dei lavori che non gli interessano Solo per tenere aperto il team Dopo queste lunghe settimane di ricerca Mi rimane il dispiacere nel pensare che un autore come lui Potrebbe non pubblicare mai più altri giochi Non ci sono molti giovani autori giapponesi In grado di continuare quella serie di giochi originali Che vedevamo spesso su vecchie console Come stiamo vedendo nei video che faccio sui giochi console Rimasti solo in Giappone Con il passare degli anni Il numero di progetti strani e affascinanti Diminuisce sempre più Da una parte mancano i soldi dei publisher Che preferiscono investire su altro Proprio come è successo a Sony Che negli ultimi anni punta di più Su titoli cinematografici per il mercato occidentale Dall'altra parte manca però anche un ricambio generazionale Degli autori giapponesi Personaggi come Yutsaito o Zweri O Katsutoshi Ida o lo stesso Goichi Suda Hanno ormai smesso di creare giochi Oppure con la vecchiaia hanno ridotto le loro ambizioni Nel 2012 Yohei Kataoka poteva essere la persona giusta Per guidare una nuova generazione di creativi giapponesi su console Per oggi il mercato dei videogiochi è cambiato così tanto Che potrebbe essere ormai troppo tardi Ogni video di Gekigemu contribuisce a riscoprire e diffondere Le storie di autori interessanti Che hanno lavorato su giochi un po' strani e poco conosciuti A volte come nel caso di Yohei Kataoka Mi servono settimane o mesi di ricerche Senza trovare tutte le risposte che stavo cercando Però come al solito credo valga almeno la pena provarci Queste ricerche mi permettono di approfondire giochi autori che mi hanno sempre affascinato Per poi condividere quello che ho scoperto con altre persone come te Posso continuare questo lavoro sotterraneo nel mondo dei videogiochi dimenticati Solo grazie al supporto dei ragazzi e delle ragazze che mi aiutano con le loro donazioni I canali youtube più famosi ricevono soldi dalla pubblicità Dagli abbonamenti su twitch o dalle collaborazioni con le aziende Un progetto di nicchia come Gekigemu esiste solo grazie al supporto di altri appassionati Se anche tu hai voglia di aiutarmi puoi leggere come fare nella pagina di Gekigemu su Patreon A presto e grazie per il supporto Grazie a tutti Grazie a tutti